Grazie, benvenute in questo nuovo video, un'altra mega collaborazione con Ketticentos e company. Andate a guardare anche loro nell'info box, vi lascio la lista dei loro canali. Questo sarà un video su o outfit per la scuola o il make up per la scuola. Io ho creato questo make up con un filo di matita, un po' di mascara e un po' di eyeliner. Spero che questo make up vi piace, è semplicissimo, però il tema del mio video sarà l'outfit per la scuola. Vi farò vedere vari tipi di outfit dove magari andrò a cambiare, ho le scarpe, qualche accessorio, qualche borsa, ma più o meno ho usato un paio di jeans, qualche maglietta e un paio di diffuso blu. Quindi spero il video vi piaccia, un bacione, a presto, ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.